Ciao a tutti! Oggi parliamo di infortuni e come reagire agli infortuni. Sto parlando per mia esperienza personale, perché domenica, per l'ennesima volta in gara, mi sono rifatto male. Dopo neanche tre settimane la Tuscanicrossing, dove sono cascato e mi è uscito fuori la spalla, ancora non sono guarito completamente, ancora mi fa male, ancora non ho la completa mobilità della spalla, che cosa faccio domenica? Prendo una bella storta alla caviglia. Per l'ennesima volta fermo qualche giorno, quindi adesso non posso correre, dovrò riposare e la situazione non è il massimo, quindi sto facendo questo video proprio sulla mia esperienza per parlare con voi, più che altro per parlare anche con me stesso e cercare di ritrovare un pochettino la motivazione e rimanere concentrato su quello che sto facendo. Quindi voglio darvi tre consigli, sia a voi e sia a me stesso, per pensare in positivo e per reagire al meglio a questi eventi, perché comunque prima o poi ci sarà sempre uno stop, che sia un'influenza, che sia un problema familiare, che sia qualsiasi cosa. Gli intoppi fanno parte del percorso e dobbiamo accettarli come tale, fanno parte del nostro cammino, come c'è la salita in montagna, poi c'è anche la discesa, c'è il momento difficile e c'è il momento facile, dipende come vediamo le cose. Io vedo fortunatamente sempre il bicchiere in mezzo pieno, quindi magari questo è un momento di riposo per ricaricare le energie, però quello che voglio dirvi fondamentalmente è che dobbiamo stare tranquilli e che gli intoppi, gli stop fanno parte del nostro cammino. Dobbiamo cercare di infortunarci il meno possibile, ok giustissimo, e dobbiamo fare tutto il possibile per non infortunarci, però eventi del genere accadono, mettere un piede male, prendere una storta quando si corre in montagna è facile che succeda, come anche facile che succede che ci ammaliamo, può succedere un po' di tutto, dobbiamo accettarli come parte integrante quindi del nostro cammino e di quello che stiamo facendo. Io mi ricordo quando ho preparato il wow cycloton, la gara in bicicletta da 1350 km non stop, io mentre preparavo quella gara nei sei mesi precedenti non sono riuscito neanche una volta a fare un lungo come avrei voluto. Non ho mai portato a termine un allenamento in preparazione di quella gara, quindi lunghi, come avrei voluto. Bisogna avere pazienza, succedono, gli intoppi ci sono, in quel caso era un'avversità meteo, stavo in Islanda, il meteo non era al massimo, bufera di neve, freddo, pioggia, non potevo proseguire e cose del genere. Può succedere. In questo caso, in questa stagione mi sto facendo parecchio male e non a caso stavo proprio guardando ieri su Netflix un documentario su Bolt dove la sua carriera è costellata da infortuni e dicono che il suo più grande nemico sono stati proprio gli infortuni. Durante la sua carriera ha dovuto combattere, principalmente sempre con infortuni. Io in questo caso non parlo di infortuni ma di qualsiasi stop, di qualsiasi genere, può succedere di tutto. E io voglio darvi a voi e anche a me, voglio darmi tre consigli per reagire al meglio a questa situazione. Il primo consiglio è quello di rimanere concentrato sul grande obiettivo. Dobbiamo rimanere concentrati su dove stiamo andando, ok? Io a settembre dovrò correre per 500 km, perfetto. Ho ancora tot mesi, ristrutturo un pochettino il programma di allenamento, devo stare attento e devo guardare in grande. Quindi non posso più guardare la gara di domenica dove dovevo andare, ho dovuto annullarla e devo iniziare a vedere di nuovo il progetto in grande e prendere questo stop di una a due settimane come un incidente di percorso. Non succede niente, ho ancora tempo per recuperare, devo soltanto magari modificare qualcosina e quindi riprendere ad avere una visione in generale e guardare il grande obiettivo dove sto andando. Se io sto preparando una maratona, come magari può succedere spesso a voi, ci vogliono mesi per prepararla e durante quei mesi può succedere di tutto. Se succede un qualcosa dobbiamo accettarlo, ma dobbiamo continuare a guardare il grande obiettivo che sta lì, fra due mesi, fra tre mesi, fra quattro mesi e dobbiamo ricordarci che è lì che stiamo andando. E se oggi non posso partecipare alla gara che ho domenica, non mi importa, conta poco. L'importante è dove sto andando. Quindi consiglio numero uno, avere una visione in grande e non dimenticarci del grande obiettivo. Consiglio numero due, la pazienza è la virtù dei forti. Dobbiamo essere pazienti, ci sono momenti brutti e ci sono momenti belli. Fa tutto parte sempre del nostro cammino. Dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo essere sereno, qualsiasi cosa passerà. Dobbiamo stare fermi un'altra settimana, non succede niente. Io amo correre e continuerò a correre. Io amo correre in montagna e continuerò a correre in montagna. Quindi non importa quello che succede, dovrò stare fermo un mese, dovrò stare fermo due settimane, dovrò stare fermo tre giorni, qualsiasi cosa sia, non importa, perché io riprenderò a correre, perché amo farlo. Dobbiamo essere pazienti e questo momento passerà. Quindi in questo momento devo essere paziente. Devo aspettare qualche giorno che la caviglia si sgonfi e tutto il resto andrà poi piano piano a posto. E qui passiamo al terzo consiglio. Ripartiamo piano piano. Dovete ripartire piano piano. Non può essere che dopo uno stop di una settimana, dopo uno stop di due settimane, ripartiamo subito con dieci chilometri sparati perché abbiamo quella voglia di correre, tutta quella energia repressa da giorni. No, dobbiamo farlo in modo graduale, ripartire piano piano, fare un piccolo test, incominciare a correre quattro chilometri, specialmente poi se veniamo da un infortunio, è importante ripartire piano. Fare dei piccoli test, uscire, fare quattro chilometri, controllare ok come sto, la caviglia sta a posto e piano piano poi dire ok posso fare qualcosina in più ed aumentare gradualmente. Io che corro più di 100 chilometri a settimana, 300-200 chilometri a settimana, dopo uno stop di qualche giorno anche solo per un'influenza, io riparto correndo il primo allenamento per 6 chilometri. Quindi immaginate chi corre meno dovrebbe farne addirittura meno. Però ipotizzando che 4 chilometri vanno bene per tutti, ci facciamo una bella corsettina test e ripartiamo in modo graduale settimana dopo settimana per riprendere poi in breve tempo tutto quello perso. Logicamente poi dipende dal tipo di infortunio, dipende da quanto ci siamo fermati, tutto quanto va visto in modo soggettivo, non è uguale per tutti, però la regola generale dice che dobbiamo ripartire in modo graduale, ripartire piano piano, fare dei test e vedere poi il corpo come reagisce. Quindi riassumendo, come reagire a degli stop, a degli infortuni, a un'influenza, a qualsiasi cosa ci si mette sul nostro percorso e ci ferma e non ci fa allenare, il primo consiglio è quello di rimanere concentrati sul grande obiettivo. Il secondo consiglio è di essere pazienti, la pazienza è la virtù dei forti. Il terzo consiglio è quello di ripartire piano, siate graduali nel ricominciare a correre. Detto questo, come sempre, io vi invito ad andare a correre, almeno voi che potete farlo in questi giorni, fatelo, mettete mi piace e condividete. Ciao a tutti!